capitolo secondo il regime fascista ora che è arrivato al potere in che modo il fascismo riesce a mantenervisi per 21 anni primo instaurarsi della dittatura e le istituzioni esaminiamo dapprima le forme giuridiche tecniche mercelle quali si organizza il regime fascista forme che rappresentano un taglio netto col regime parlamentare dell'italia dal 1861 al 1922 è necessario qui distinguere nettamente due periodi quello compreso fra il novembre 1922 e il gennaio 1925 e quello successivo al 3 gennaio 1925 nel primo periodo salvo il fatto politicamente decisivo della formazione ufficiale legalizzata di un esercito di partito la milizia su cui dovremo tornare non si verificano cambiamenti sostanziali rivoluzionari in primo luogo mussolini che fino al settembre 1922 non aveva nascosto le sue preferenze repubblicane accetta col discorso di udine 20 settembre 1922 la monarchia la quale aveva dalla sua parte in seno al fascismo capi come de vecchi oltre a tutti i nazionalisti istituzione che alla base della vita italiana non cambia e si conserverà sino alla fine inoltre in questo primo periodo mussolini accetta ancora la collaborazione al governo dei liberali e dei popolari allontana dal gabinetto i membri del partito popolare nell'aprile del 1923 ma sino alla fine del 1924 i liberali continueranno a partecipare al governo formalmente si può quindi parlare in questo primo periodo di una cooperazione tra il fascismo e alcuni uomini di altri partiti dico alcuni uomini perché con i partiti come tali mussolini ormai pressoché deciso a non scendere a patti nei riguardi dei collaboratori popolari che cercano ancora di agire in funzione del loro partito mussolini reagisce allontanandoli dal governo è una cooperazione capovolta rispetto a quella che intendevano giolitti e alcuni vecchi capi politici non sono più i vecchi partiti che incorporano il fascismo è quest'ultimo invece che formalmente accetta ancora per qualche tempo la collaborazione dei non fascisti intanto in tutto il paese continuano le violenze contro i socialisti i comunisti e i popolari contro tutto ciò che non è fascista i capi fascisti locali i ras acquistano una posizione predominante e il partito fa la voce grossa coi rappresentanti del governo prefetti eccetera la sostanza delle cose muta rapidamente mentre la forma è intaccata solo in parte per prima cosa mussolini ottiene dalla camera dei deputati la fiducia per il suo governo con 306 voti contro i 116 e contemporaneamente i pieni poteri formalmente perciò egli agisce in base a una delega del parlamento ma intanto si mette in moto per preparare una camera dei deputati di sua fiducia ed ecco la legge elettorale del 18 novembre 1923 che attribuisce alla lista di testa i due terzi dei seggi alla camera al fascismo basterà dunque ottenere la maggioranza relativa sulle altre liste nemmeno la maggioranza assoluta per disporre a piacere della camera per strappare tale maggioranza esistono efficaci mezzi d'azione che ostacolano la propaganda avversaria e rendono estremamente difficile agli elettori il compimento del loro dovere alle elezioni del 6 aprile 1924 la lista fascista o lista nazionale raggiunge così il 64,9 per cento dei voti essa beneficerà al parlamento di 374 seggi la legge elettorale del 1924 non durerà che quattro anni e sarà sostituita dalla nuova legge del 1928 che ormai tutt'altra cosa in base ad essa non vi sarà che una lista unica a chi spetterà la composizione di tale lista il compito di disegnare i candidati viene attribuito ai sindacati e ad altre organizzazioni esse indicheranno un numero di candidati due volte superiore a quello che deve essere eletto 800 dopodiché il gran consiglio del fascismo sceglierà la metà 400 dei nomi proposti e la sottometterà all'elettorato per l'approvazione con questa legge ci troviamo ormai anche dal punto di vista formale completamente al di fuori non solo del sistema parlamentare ma anche come osserva giolitti dal semplice sistema costituzionale si abbandona il sistema elettorale per adottare quello plebiscitario e di fatto si è già in piena dittatura con la legge del 1928 entriamo ormai nel secondo periodo del fascismo tra la legge del 1923 e quella del 1928 si cita appunto la rottura anche formale questa volta col vecchio sistema la rottura avviene nel 1925 la seconda metà del 1924 è un periodo di crisi il 30 maggio 1924 il deputato socialista matteotti pronuncia alla camera un violento discorso contro il governo denunciando i sopprusi perpetrati durante le elezioni di aprile qualche giorno più tardi e gli viene rapito dai fascisti in piena roma e il suo cadavere sarà ritrovato solo dopo diverse settimane appare subito chiaro che la responsabilità risale assai in alto allo stesso entourage di mussolini il ministro degli interni e la polizia sono messi in causa vivacissima ed energica è la reazione suscitata dall'assassinio di matteotti è la fine delle illusioni per coloro che pur restando fedeli all'ideale della libertà avevano creduto di poter scendere a patti col fascismo anche dopo il 28 ottobre 1922 nella speranza di incanalarlo di impedirgli di varcare certi limiti persino fra i molti fascisti si apre una crisi sia perché questo assassinio eppure non è certo il primo illumina di colpo di una luce sinistra il problema politico generale il fascismo ha in mano il potere va per mantenere l'ordine come aveva assicurato o per paura dell'opinione pubblica soprattutto si assiste alla decisa ripresa dell'opposizione guidata da turati treves modigliani e in particolare dal liberale amendola i deputati all'opposizione decidono 27 giugno 1924 di non partecipare più ai lavori parlamentari finché in italia non sia restaurata l'autorità della legge e abolita la milizia di partito è la cosiddetta secessione dell'aventino l'opposizione imposta un problema morale occorre isolare moralmente il fascismo e provocarne la caduta con la rivolta morale della nazione si crea così e si precisa in maniera definitiva l'assoluta frattura fra due mondi quello della libertà e quello del fascismo ma dal punto di vista politico la secessione è senza dubbio un errore per abbattere mussolini e il fascismo occorrono delle forze occorre un'azione energica e decisa un'azione di rottura se non altro per trascinare la corona verso la quale si volgono tutti gli sguardi e persuaderla ad intervenire nulla di tutto ciò accade il re attende e non si muove ha affermato di essere cieco e sordo i suoi occhi e le sue orecchie ha detto sono la camera e il senato d'opposizione conduce la sua campagna sulla stampa i grandi giornali soprattutto il corriere della sera di milano diretto dal senatore albertini che è uno dei leader dell'opposizione la stampa di torino eccetera attaccano il fascismo ma questo si riprende dalla scossa i capi provinciali in particolare farinacci reagiscono con estrema violenza e organizzano le loro squadre e passano al contrattacco le violenze ricominciano e ancora è sempre il metodo della forza contro quello dell'opinione pubblica dei due è il primo che riesce vittorioso il 3 gennaio 1925 mussolini tiene alla camera il discorso che segna la fine del primo periodo quello che chiamerò il periodo transitorio del fascismo e inizia la dittatura vera e propria in questo discorso e gli dichiara fra l'altro l'articolo 47 dello statuto dice la camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re e di tradurli dinanzi all'alta corte di giustizia domando formalmente se in questa camera o fuori di questa camera c'è qualcuno che si voglia valere dell'articolo 47 ebbene io dichiaro qui al cospetto di questa assemblea è il cospetto di tutto il popolo italiano che assumo io solo la responsabilità politica morale storica di tutto quanto è avvenuto è la ripresa massiccia del fascismo e questa volta è anche l'abbandono della tattica della collaborazione con i non fascisti il potere tutto il potere passa al fascismo si giunge alle leggi fascistissime cioè alla dittatura che ormai non teme più desporsi sul piano formale la legge del 24 dicembre 1925 è fondamentale perché concerne gli attributi del capo del governo molti articoli di questa legge sono significativi l'articolo 2 dice il capo del governo è nominato e revocato dal re ed è responsabile verso il re dell'indirizzo generale politico del governo i ministri sono nominati e revocati dal re su proposta del capo del governo essi sono responsabili verso il re e verso il capo del governo articolo 3 il capo del governo dirige e coordina l'opera dei ministri tutto ciò è una novità lo statuto non prevedeva l'esistenza di un capo del governo distinto dal ministero in base allo statuto di carlo alberto del 1848 tuttora in vigore nel regno il re nominava e revocava i suoi ministri articolo 65 i quali erano responsabili articolo 67 di fronte al parlamento attorno al principio della responsabilità dei ministri davanti alle camere sarà creato in italia come in molti paesi un sistema parlamentare e non più solo costituzionale ora invece il capo del governo cessa di essere responsabile di fronte al parlamento la camera dei deputati può manifestare la sua fiducia o la sua sfiducia ma il capo del governo rimane in carica il re soltanto ha il potere di revocarlo l'articolo 6 della legge è molto chiaro non si potrà porre nessuna questione all'ordine del giorno del parlamento senza previa approvazione da parte del capo del governo è la fine della discussione parlamentare come necessario fondamento della vita di un governo ogni dibattito politico può essere così evitato la legge sul gran consiglio del fascismo del 9 dicembre 1928 che sarà integrata da un'altra legge del 14 dicembre 1929 perfezionerà la legge del 1925 il consiglio deve tenere sempre pronta una lista di nomi da presentare alla corona per la nomina del capo del governo e dei ministri in tal modo la designazione passa dal parlamento al partito fascista il capo del governo è al tempo stesso capo del partito la sua responsabilità è nominale verso il ed effettiva soltanto verso il partito così bisognerà che il partito si dissolva che il gran consiglio sopponga mussolini perché il re si decida a intervenire siamo dunque allo stato partito ecco la legge sulla stampa con cui si attua la trasformazione degli organi principali della stampa italiana la stampa di torino il corriere della sera di milano passano in mano ai fascisti in quanto al gran consiglio del fascismo il suo parere è obbligatorio in tutte le questioni di carattere costituzionale per il resto potrà esprimere la sua opinione a richiesta del capo del governo su ogni questione politica economica o sociale di carattere nazionale fra le questioni costituzionali di competenza del gran consiglio c'è quella concernente la successione al trono gli attributi e le prerogative della corona è una specie di avvertimento rivolto alla monarchia una palese precisa limitazione dei suoi poteri e un modo per far sapere in altissimo loco badate noi siamo monarchici ma solo finché ciò ci fa comodo in realtà il compito del gran consiglio si esaurì nell'approvare quel che già era stato deciso discussioni assai vivaci si ebbero al tempo delle leggi razziali balbo che certo non mancava di coraggio lottò per impedire l'approvazione dei decreti ma l'unica volta in cui il gran consiglio svolse una parte di primo piano fu la notte dal 24 al 25 luglio 1943 nel momento cioè della grande crisi del fascismo quando esso a grandissima maggioranza fece appello alla corona contro mussolini queste leggi creano dunque presupposti formali dell'autorità del capo del governo leggi di repressione contro la stampa e leggi contro i vecchi partiti il 9 novembre 1926 ad esempio la camera proclama la decadenza dei deputati aventiniani vedi più istituzione il 25 novembre 1926 di un tribunale per la difesa dello stato che dovrà giudicare i cosiddetti reati politici è un tribunale che funzionerà con molta durezza le condanne anche nei casi meno gravi colpiscono pesantemente coloro che vengono accusati di complotto contro la sovranità dello stato cioè gli antifascisti duriamo ora all'aspetto più caratteristico della dittatura la milizia volontaria per la sicurezza nazionale mvsn istituita il 13 gennaio 1923 nella prima riunione del gran consiglio l'origine si può ritrovare nelle squadre d'azione nelle camicie nere del periodo pregovernativo dopo il 28 ottobre si porrà il problema dell'utilizzazione di questi uomini mussolini è chiaro non ha nessuna intenzione di rinunciare a questo strumento che è la la milizia le camicie nere presteranno giuramento di fedeltà al re ma resteranno sempre agli ordini del capo del governo e il loro compito sarà quello di conservare e difendere i diritti della rivoluzione siamo di fronte ad uno degli elementi più caratteristici della differenza fra le dittature del ventesimo secolo e quelle del diciannovesimo non si dimentichi infatti che la stessa cosa accadrà in germania dove accanto alla wehrmacht sorgeranno le ss le leggi restrittive della libertà di stampa non sono una novità eppure la condanna all'esilio dei propri avversari politici rappresenta una novità la vera novità è costituita dal fatto che mentre le dittature del diciannovesimo secolo facevano appello all'esercito regolare e compivano il colpo di stato con il suo appoggio quelle del ventesimo secolo fascista o nazista si impadronivano del potere grazie a una propria organizzazione militare specialmente approntata e destinata a conservarsi accanto all'esercito regolare sotto il profilo politico il fatto ha conseguenze assai gravi l'abbiamo già visto al momento dell'avvento al potere del fascismo l'organizzazione militare delle camicie nere ha fornito al fascismo una forza d'urto sconosciuta ai vecchi partiti politici lo riscontriamo ora dopo l'ascesa al potere la forza militare organizzata fedele al capo il giuramento di fedeltà al re è solo una pervenza che non inganna nessuno consente a Mussolini di restare al suo posto nel giugno 1924 in un momento in cui qualsiasi altro governo normale avrebbe dovuto darle dimissioni su due piedi e gli permette di sfidare le forze morali dell'opinione pubblica la milizia continuerà a rappresentare la garanzia del regime anche dopo il 1925 persino quando Mussolini cercherà nel modo più aperto il consenso perfino quando nel 1932 33 farà entrare nel partito fascista il maggior numero possibile di persone nell'intento di identificare il partito con la nazione anche allora la milizia cioè la forza armata rimarrà il suo costante appoggio l'opinione pubblica viene dunque schiacciata tra gli esponenti antifascisti alcuni sono stati uccisi o sono morti in seguito alle aggressioni fasciste come amendola capo dell'opposizione liberale come il giovane torinese pietro gobetti che dalla prima ora aveva raccolto gli oppositori attorno al giornale da lui fondato a torino la rivoluzione liberale altri turati traves modigliani eccetera sono costretti dopo il 1925 a prendere la via dell'esilio lo storico salvemini professore a firenze è in esilio in esilio nitti ex presidente del consiglio in esilio don sturzo come pure il conte sforza ex ministro degli esteri giolitti muore nel 1928 di coloro che sono rimasti in italia buon numero in carcere più di ogni altro il partito comunista prosegue la sua attività clandestina ma l'azione deve svolgersi in segreto e bisogna pagare un pesante tributo personale ogni qualvolta si cade in mano al tribunale per la difesa dello stato gramsci dirigente comunista è in prigione e ne uscirà solo per morire rosselli finirà pugnalato in franza ad opera di sicari fascisti alla camera dei deputati giolitti e altri liberali che non hanno aderito alla secessione dell'aventino si sono irrigiditi nel loro atteggiamento e sono passati ad un'opposizione assoluta il congresso di rivorno l'autunno 1924 ha segnato il passaggio del partito liberale alla netta opposizione contro il fascismo persino salandra liberale di destra e fino allora sa incrine alla collaborazione si unirà ai liberali antifascisti il partito liberale come tale è quindi fra gli oppositori ma molti suoi aderenti anche deputati se ne allontanano per seguire il fascismo dopo le elezioni plebiscitarie del 1929 non vi sarà più posto per le voci dell'opposizione al senato uno sparuto gruppo di senatori croce ruffini albertini bergamini e qualche altro continua ad avversare apertamente il fascismo la rivista di benedetto croce la critica può continuare ad esprimersi pubblicamente la forma culturale si tratta di una rivista di filosofia di storia di letteratura maschera così la sostanza politica croce diviene in tal modo il vessillo vivente degli ideali della libertà e dell'antifascismo il resto è silenzio politica croce diviene in tal modo il sostegno si tratta di una rivista di